famiglia del tubo buonasera buonasera a tutti ciao dalla vostra titina sono qua per ricordarvi che stasera diretto un cennetto vieni da qui cari che cosa ci facete carico io amonenne andate a letto andate mi dispiace che non ci sono però vieni un po' sui stare senza di voi samara me lo fai un caffè per favore un bel caffè stretto così mi passa il suo sonno famiglia uno a me e uno più serenella gli usa la picciotta incinta senti c'è pure il caffè e ci può crescere il bambino col chicco capisci con il tuo naso si un bel caffè ristretto ti pari a te la samara mi fai l'uangolo che a me viene un cacarone aiaiai come devo fare io veramente domani c'è una diretta va bene quindi vediamo poi vi ricolorare io capisci mangiarsi può mangiarsi può tutto a posto qualcuno che ci farà bene pensate no giusto che se che sa pagate con mia signori io naturalmente sempre previo pagamento sono pronta per risolvere problemi in famiglia colpite un po' la tattuto capiste signori miei ho capito quindi come fare andiamo a dare una mano quindi c'è questo di qua allora io questa sera ho mangiato dei peperoni con le patate che già mi fanno una chiana ne scende una chiana ne scende una chiana ne scende un peperone mi stava nei cianurari che ho capito ci faccia così e non c'è se va a dire niente basta per ora non ne devo fare più viva le uova viva le uova che ora quando mangio uova se sazia ho capito solo che per momento ce li ho vietati perché proprio ho fatto gli esami l'altro giorno e il polesterolo era a 720 o che cosa del genere il dottore mi disse signora io non lo so lei ma io non lo so lei perché è qua dice facciamo di nuovo gli esami e fecevo l'esame e mi fecevo stare e dice signora forse è meglio quando facevamo l'esame ci si picchia era 720 ora è 940 e io sono forte capito però mi disse che sono gli abili che faccio io abili chi mi cugnate che fa alzare il polesterolo e io non ne voglio fare più abili non ne vale la pena piccettone fare abili ho capito amo ne cavolo a suire a quel caso mi vede resta inserito un rumore e chissà di cui io spai ti è incinta sa dare una ciamata però un giubbettario è chiuso il caffè bene qua hanno che fare per ora a sposino capisci hanno che fare bene qua io io veramente non lo so mi ci mettesse con il giudizio io ok metti la radio più alta che non che non sentiamo su tum 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 e chi è finito chi è ah ho capito ok ecco il suo marito pensi era sangue stile e penò stile e penò ai tempi ho capito ecco dire stile e penò niente non ce lo portare grazie samara ramello solo a mia alla voce non ce ne puoi stare questo caffè io lo divido con tutta la famiglia del tubo tu disonorata che sei che cosa ci mettesse che da così amaro a stile scappò da rincia scappò chiudio signor chiudio che ci va a faccio una faccia tanta chiudio chiudio chiudio